E' fatta con 20 voti a favore e Cirofiola è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Napoli. Scade nulle 10. Si chiude così la fase di commissariamento della terza Camera di Commercio d'Italia, iniziata nel 2015 sotto la regenza prima di Maria Salerno e poi di Girolamo Petrone. Un nuovo corso, un sogno che si realizza per Cirofiola e per la coalizione che guida. Diversi punti in programma. Lavorare duro per il recupero del rispetto tra la parte politica che dovrà dirigere l'ente di Piazza Bovio e i dirigenti e i lavoratori e per il recupero della credibilità istituzionale persa negli ultimi anni. Allo studio un nuovo regolamento che prevederà, tra le altre cose, la costituzione di consulte al fine di coinvolgere le imprese. Tra queste una consulta dei saggi. Ma soprattutto niente più soldi ai confidi, ma soldi direttamente alle imprese. Si valuterà inoltre ciò che la legge già prevede in modo da porre fine alle diatribe tra le associazioni datoriali, ovvero la possibilità di modificare lo statuto e prevedere che le aziende votino alla stregua degli enti locali i propri rappresentanti in Camera di Commercio, perché questa è la vera democrazia. Ai nostri microfoni il neopresidente Ciro Fiola. Allora si parte dal recupero della rappresentatività della Camera di Commercio, ma non solo, lo dicevo prima, ma anche dal recupero del rispetto interno alla Camera di Commercio per far sì che funzioni. Si parla sempre di rappresentatività. Io lo dico e lo dico anche rammaricato. Noi abbiamo una storia molto lunga, come associazioni che mi hanno sopportato, hanno creato veramente un rapporto tra le aziende e il territorio e adesso lo attueremo anche con la Camera di Commercio. Parlando di rappresentatività, tutti messi insieme, non rappresentiamo nemmeno il 10% del totale delle aziende che sono iscritte alla Camera di Commercio, circa 300 mila. Questo poteva essere l'unità, poteva essere un segnale all'impresa per recuperare quella rappresentatività che ormai negli anni si è persa.